salve ragazzi ho rimontato la mia carabina la sto ancora sistemando il guanciotto perché non mi piaceva non mi trovavo bene però adesso praticamente l'ho rifatta ho già fatto le prove a 10 metri poi come si può vedere spero la in fondo non guardate il casino perché sto mettendo a posto sto ristrutturando la stalla che diventerà un mio ufficio ecco la nel campo c'è il bersaglio da 50 metri e la in mezzo in mezzo in fondo in fondo in fondo che non si vede c'è quello da 100 metri qui sto facendo avevo fatto un po le prove di tiro da 10 metri i primi 6 7 tiri sono qui due sbagli come solito e gli altri sono tutti qua 1 1 2 sono fuori ma normale succede ho lineato il mirino questo è uno dei miei laghetti un macero comunque va bene ciao a tutti dall'ucraina